Ci prepariamo a partire in zona di attesa, concentratissimi i nostri polisti, partiamo la bandiera si è passata con me, la palla deve andare sul fondo, la stiaccia, subito a posto. E anche la squadra più di loro sono andata da soltanto, anche per i mini unicorni, adesso tutte le palline sono a posto, abbiamo Staschi e Hatch, secondo concorrente in campo. Sì, bravo, Sede, bravo, Sede, bravo. E vai, Sede, bravo. E vai, Sede. Abbiamo anche la squadra bianca, la squadra verde, bianchi. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. E poi le squadra verde, loro sono andata da soltanto. Fux invece, c'è una palestra a terra, chiude la squadra strana. E' una palestra che anche oggi, facevo scelta e se ne vissi. Se ne vissi. Se ne vissi. Se ne vissi. La bandiera è passata per partire, gioco delle due pazze, rotti con la mano verso il paletto, i nostri concorrenti, questi Hatch. E questo momento fa partire... Bravo, bravo. Bravissima. Va giù. E la tricolio. E la tricolio. E la squadra c'è. Come va in questo momento, per non passare giù? A tutti. Viene, viva. Vai giù. Vai giù da guardare gli altri. Oltre 먹i giù. Change il gu это forno. Allora sia per all'quedged in. Allora sia per te vocês. Come va serveurante. Allora. Oltre a prendersi per il calço. Allora sondern oltre a prendersi. La squadra. E di poi si è gelata. Oltre cose. Brezani. bravo Gioele, bravo dai Noemi sali dai Noemi sali bravo 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 Grazie a tutti.